Presso la Camera di Commercio di Pesaro, in corso 11 settembre, sono stati presentati due bandi realizzati dalla stessa Camera di Commercio, uno dei quali in collaborazione con la Regione. Si tratta del bando Borghi, destinato a far sì che ci sia un ripopolamento dei borghi, quindi dei piccoli centri, soprattutto in chiave turistica, e il secondo bando che riguarda invece l'ambiente e l'economia circolare. È stata anche l'occasione per la prima uscita pubblica del neoeletto presidente Gino Sabatini, che non più tardi di un mese fa è stato eletto anche a livello di vicepresidenza nazionale, quindi abbiamo avuto modo di ascoltare le sue impressioni dopo questa nuova rielezione. Una è una continuazione del bando Borghi che noi avevamo negli scorsi anni, l'abbiamo modellato su delle indicazioni che le associazioni di categoria ci hanno dato, le imprese ci hanno anche suggerito, l'abbiamo rimodellato per ripresentarlo adesso in un momento importante dove tutto l'asse centrale dell'Appennino, perciò tutti quanti questi borghi, hanno una nuova vitalità anche tramite il bando che il presidente Acquaroli ha messo in campo come regione Marche, che aiutano gli enti, gli comuni su alcune linee proprio per rivitalizzare queste zone. Noi ci siamo mossi sulle imprese, stessa cosa l'abbiamo voluto fare sulla sostenibilità e il Gmin è un tema importante dove si parla di certificazioni, come si parla di consulenze, di aiutare il sistema delle imprese, devono entrare in questo mondo nuovo che per la piccola microimpresa può essere anche l'ESG, dobbiamo far sì che il tessuto imprenditoriale delle Marche al 360 gradi sia coinvolto in una nuova epoca di sostenibilità.